ciao a tutti adesso andiamo a fare una ricetta abbastanza semplice gli ingredienti principali sono tre gli spaghetti le vongole e le panacchie all'inizio andremo a cuocere tutto separatamente per poi finire la cottura nel tegame terracotta che verrà ricoperto con la pasta sfoglia e messo se volete vedere come va a finire rimanete a guardare il video ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti